Il palinsesto è una parola che deriva dal greco che era un modo che usavano delle pergamene che erano molto cari. Si usavano ma a un certo punto se non c'era un'altra pergamena si continuava a scriverci sopra. Un po' come questo, prima di tutto è un insieme di differenti serie che dialogano per analogie e le fotografie proposte hanno spesso quest'idea del tempo che passa, di cose che si sono scritte sopra ad altro. La città dall'inizio della mia formazione è stato un luogo molto importante, ma non tanto la città, il centro della città, ma le periferie. Si parla molto della città liquida, della città senza confini, della città che continua nella sua orizzontalità e dunque senza più un centro, senza più dei punti di riferimento. E questo diventa un luogo molto interessante per molti fotografi, tra cui pure io. Hanno a che vedere con la città, hanno a che vedere con l'architettura, hanno a che vedere con degli spazi abbandonati, hanno a che vedere con gli spazi che mutano, che cambiano o che spariscono. Così, questi luoghi che sono un po' lì in bilico, cioè che ci sono e domani non ci sono più. In più mi danno anche appunto la possibilità di lavorare sulla memoria del luogo, su quello che è successo nel luogo, sulla stratificazione di segni, di famiglie che hanno lasciato delle cose, che hanno cambiato la pittura, la carta da parati. E dunque mi dà molte opzioni per poi costruire le mie fotografie. La maggior parte dei miei progetti hanno dei tempi molto lunghi, proprio perché l'osservazione necessariamente deve essere lenta per capire un luogo. Spesso la fotografia è l'ultimo gesto, la macchina fotografica appare come ultima istanza. Spesso sono dei luoghi poco facili da frequentare, le periferie urbane per esempio sono a volte dei luoghi di conflitti sociali e dunque ci vuole anche tutto un aspetto di coinvolgimento sociale anche. Io ho sviluppato diversi progetti appunto in ambito urbano ma che poi sono diventati dei progetti anche di azione sociale, approfittando della fotografia e dell'arte come un metodo per cercare di, di nuovo, di salvarsi. Per me la fotografia è stata un'ancora di salvataggio quando ero molto giovane. Devo parlare di molti anni fa perché la fotografia è entrata nella mia vita già nella scuola obbligatoria. Durante le scuole medie e poi nel liceo e poi successivamente andando a studiare fotografia a Milano che poi è diventata come una specie di passione, come un amore a prima vista. È stato come una specie di ancora di salvataggio nella fragilità dell'adolescenza. Ho iniziato molto presto a frequentare uno studio di fotografia e lavorare con un maestro e dunque sviluppare da subito la fotografia come lavoro, come il lavoro pratico. La fotografia come pubblicità, non come arte, la fotografia applicata. Un altro incontro fondamentale è stato con un giovane artista, il mio coetaneo, Silvano Repetto, con il quale abbiamo iniziato a condividere un po' l'ansia della gioventù, l'ansia di voler fare, di essere qualcuno, di voler avere degli spazi propri. E dunque abbiamo creato una specie di collettivo che si chiama Minelli e Repetto e abbiamo iniziato a lavorare più nell'ambito dell'arte, che per me era una cosa totalmente nuova. Però grazie a questo incontro e poi successivamente ad altri grandi maestri mi sono avvicinato di più alla fotografia come un'espressione personale. La fotografia come la possibilità di una ricerca personale, la ricerca come artista, non solo rispondere a una necessità di un cliente. La macchina fotografica che utilizzo ha più di 30 anni, l'ho scoperta con il mio primo lavoro, con il primo fotografo con cui ho collaborato in Svizzera, nella Svizzera italiana. E questa è la camera che si utilizza, la macchina fotografica che si utilizza per la fotografia pubblicitaria in studio, in quel momento. Il fatto di continuare a lavorare con la macchina fotografica di grosso formato, una macchina fotografica analogica, è quasi un gesto di resistenza, di resistenza contro la proliferazione e la banalizzazione delle immagini. La fotografia di solito uno la intende come la reflex, piccolo formato, veloce, per fare appunto reportage, per fare appunto scatti istantanei. Questa non ha nulla di istantaneo. So che per quella giornata di lavoro ho 12 scatti, 12 fotografie. E dunque diventa anche un modo di osservare, di transitare, di attraversare il territorio molto più lento, molto più contemplativo. Ho fatto delle fotografie dove l'esposizione è durata un'ora. Il problema è cosa fai durante quell'ora. Di nuovo c'è un atteggiamento anche concettuale di cercare di bloccare il tempo, di rallentare il tempo. Come fotografo uno dei rapporti professionali che più mi ha insegnato è stato il rapporto con gli architetti. Spesso appunto la fotografia arriva come ultima istanza, che si avvicina un po' al modo di pensare dell'architetto, che prima elabora il luogo, gli architetti di qualità chiaramente, cioè conoscere dove va a mettere il proprio immobile, il dialogo che può creare con il resto, la gente che ci andrà a vivere, dunque che rapporto può produrre l'architettura sull'essere umano. Tutti questi elementi sono elementi chiaramente dell'architettura, ma che entrano in dialogo parallelo col mio modo di pensare e di lavorare. Dunque arte, architettura e fotografia vanno insieme, sono dei linguaggi che si incrociano, che dialogano tutto il tempo. Musica 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 Musica